Il forestale è come il perito dell'assicurazione. Documenti, ritardi, manca una carta. Ma cos'è questa storia qua? Ma basta. Il risarcimento deve avvenire. Punto e basta. E soprattutto ci deve essere una regola chiara. Che quello problematico deve essere anche abbattuto. Oh, venite a vedere, venite a vedere. Vai via da scuole, spaventato. Gli orsi sono orsi, hanno un'individualità molto spiccata, un po' come le persone. Ci sono caratteristiche anche molto diverse tra un esemplare e l'altro. In base alle caratteristiche innate e in base alle esperienze che fanno nel corso della vita, in particolare nel corso dei primi anni, possono acquisire comportamenti che semplicemente in un contesto antropizzato come sono le Alpi sono ritenuti inaccettabili. Questo in realtà è un orso problematico. Non è che abbia problemi nella testa o altro.